Carbone e dura protesta dei pazienti ADI contro l'ASL7, l'associazione di parenti e familiari annuncia il rifiuto totale dall'assistenza medica e infermieristica. In caso di mancate risposte dicono siamo pronti a fare lo sciopero della fame. Regione per gli esodatti 7 milioni e mezzo di prestiti previdenziali. Dopo varie sollecitazioni al governo andate a vuoto la giunta regionale corre e ripari. Ha provato il fondo a favore di chi ha perso il lavoro e si avvicina l'età pensionistica. Progetto e scola 555 mila euro per le scuole di Carbonia. Al finanziamento regionale si aggiungono circa 77 mila euro di confinanziamento comunale per un totale complessivo di 632 mila euro per l'edilizia scolastica. Ha riaperto oggi l'ufficio postale di Cortoghiana. Il TAR ha accolto il ricorso del comune di Carbonia ritenendo illegitimo il provvedimento della società poste italiane che aveva disposto la chiusura permanente del servizio. Ben ritrovati nel telegiornale di Canale 40. L'avete sentito nei titoli. A Carbonia continua alla protesta dei pazienti che necessitano dell'assistenza domiciliare integrata. Una protesta contro la decisione del commissario dell'Asla 7 Antonio Onnis che intende modificare un piano di assistenza considerato efficace e consolidato da diversi decenni. Sanzio Bertolazzo, presidente dell'Associazione Le Rondini, ai microfoni di Manolo Mureddu. Siamo in compagnia di Sanzio Bertolazzo, presidente dell'Associazione Le Rondini. Da oggi avete intrapreso una protesta eclatante nei confronti dell'Asla. Sì, perché siamo stanchi. Basta di questo disservizio e di queste promesse fatte solamente di parole, 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 ma con niente di fatto. Siamo d'accordo con l'Asla, allora tutto va bene, se non siamo d'accordo non va bene. Noi da questa settimana abbiamo intrapreso uno sciopero degli infermieri, sia i nuovi, cioè il gruppo che sta creando l'Asla, sia con i vecchi della rianimazione che fino adesso hanno effettuato con i medici un ottimo servizio. Che cosa consisterà lo sciopero? Stiamo parlando ovviamente di malati gravi, non autosufficienti, che hanno necessità di essere assistiti 24 ore su 24? Devono essere assistiti, come dice lei, 24 ore su 24, ma soprattutto devono essere assistiti di notte e di giorno, perché le 24 ore tante volte, cosa significa dietro le parole, se mettiamo qualcosa di concreto? Che se è di domenica, se è un festivo, se è una notte, chiama il 118 e porta in ospedale, noi l'assistenza te la diamo. Ci sono malati che sono, da anni che non si muovono dal letto. Immaginate voi questo percorso, andrevieni da casa all'ospedale per portare un cambio di canula. Noi non solo chiediamo il servizio, può avere anche qualche qualche criterio diverso, ma vogliamo l'assistenza certa, sicura, continuata e soprattutto che tranquillizzi i malati nostri, perché oltre al malanno che hanno, devono aggiungere altri pensieri, altre situazioni, altre parole. La regione stanzia 7 milioni e mezzo di euro per tamponare i disastri causati dalla legge Fornero e andare incontro agli esodati. Sentiamo il servizio di Alessia Pinna. I lavoratori fuoriusciti dagli ammortizzatori sociali, a cui mancano pochi mesi o al massimo due anni per raggiungere la pensione, potranno contare su un fondo di rotazione per l'anticipazione del versamento dei contributi necessari per l'accesso al trattamento pensionistico. La regione ha stanziato 7,5 milioni di euro per la concessione di prestiti previdenziali e un milione di euro per garantire un sussidio per un massimo di 700 euro al mese, in cambio dello svolgimento di prestazioni di utilità sociale per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà. La nuova misura, approvata venerdì dalla Giunta regionale, è stata presentata nei giorni scorsi dall'assessora del lavoro Virginia Mura. È stata approvata venerdì dalla Giunta regionale ed è una misura importante per i lavoratori che hanno perso l'occupazione e che hanno un'età che non consente di farli rientrare nel mercato del lavoro. Quindi per le persone alle quali mancano meno di 24 mesi per il raggiungimento della pensione viene istituito un fondo che darà una risposta inizialmente a almeno 350 persone, ma si tratta di un fondo di rotazione che quindi potrà essere ricostituito. Non solo, è un fondo che al momento dispone di 7 milioni e mezzo ma può essere anche implementato con la possibilità appunto della restituzione al momento del conseguimento della pensione nell'arco di 7 anni e a tasso zero. Quindi diciamo è un po' una boccata di ossigeno per queste persone. E poi in alcune situazioni abbiamo a disposizione un ulteriore milione che consentirà di creare una sorta di periodo cuscinetto, quindi dare un sostegno economico per 7-9 mesi mediante lo svolgimento di attività utili alla collettività e che consentano appunto di avere un certo reddito fino al raggiungimento della pensione. È una misura sperimentale ovviamente e noi contiamo poi che diventi una misura complementare rispetto a quelle che verranno messe in campo dal Governo nazionale. Anche se al momento dalle notizie che abbiamo sulla legge di stabilità, a meno che non ci siano dei cambiamenti netti, diciamo che la nostra misura è un pochino più importante rispetto a quella di cui si parla a livello nazionale, cioè della possibilità di part time, insomma, negli ultimi anni di lavoro. Sulla base di una nota trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione e Servizio Igiene Pubblica dell'Asla 7 di Carbonia, con la quale si segnala la presenza di legionella pneumofila a titolo elevatissimo nell'impianto dell'acqua sanitaria presso l'hotel Mistral di Porto Scuso, il sindaco del comune Giorgio Alimonda ha emesso ieri, 21 ottobre, un'ordinanza contingibile ed urgente per segnalare la presenza del batterio nell'impianto dell'acqua dell'hotel finalizzata ad ottenere da parte dei proprietari dell'albergo le linee guida recanti, indicazioni sulla legionella per i gestori di strutture ricettive e termali. In particolare si ordina l'attuazione di misure di bonifica con periodiche verifiche e trasmissione dei risultati agli enti competenti. Una ragazza minorenne di Carbonia è stata denunciata, è stato di libertà per ricettazione di un telefono rubato ad un ragazzo di 14 anni. Nel mese di ottobre dello scorso anno il giovane si trovava nella pinetta del Rosmarino quando durante il tragitto per entrare a casa ha incontrato un uomo di età intorno ai 45-50 anni che con uno scatto repentino gli ha strappato dalle mani il suo smartphone per poi darsi alla fuga. Subito dopo la segnalazione del furto da parte della vittima sono state attivate le attività di indagine da parte dei carabinieri della stazione di Carbonia e a conclusione degli accertamenti i militari hanno denunciato in stato di libertà la 17enne del posto. La ragazza sin dal giorno successivo al furto utilizzava già il telefono che è stato poi restituito al ragazzo derubato. La giovane ha dichiarato ai carabinieri di non ricordarsi da chi aveva acquistato il telefono. Attraverso la partecipazione al progetto Iscola il Comune di Carbonia ha ottenuto dalla regione il finanziamento per la realizzazione dei lavori in diverse scuole cittadine. Il finanziamento è di 555.000 euro a cui si aggiungono 77.000 euro di confinanziamento comunale per un totale complessivo di 632.000 euro. Gli edifici scolastici interessati dai lavori di messa in sicurezza e manutenzione programmata sono la scuola primaria di via Roma 102.000 euro, la scuola primaria dell'infanzia di via Mazzini quasi 148.000 euro, le scuole secondarie di primo grado di via della Vittoria 113.000 euro, via Balilla 153.000 euro, via Dalmazia 113.000 euro, l'amministrazione inoltre in attesa di finanziamenti per le altre scuole. Il Ministero della Salute apre all'esportazione del maialetto sardo proveniente da allevamenti certificati. Sollecitato dall'assessore Luigi Arru, il direttore generale della Sanità Animale dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, Silvio Borrello, ha espresso apprezzamento per quanto la regione sta facendo sul fronte dell'eradicazione della peste suina dopo anni di inerzia. Certo non si può risolvere il problema in un anno, ha detto, ci sono cose che devono essere corrette dal punto di vista organizzativo. Il maialetto sardo DOC torna dunque in tavola in tutto il territorio nazionale dopo quattro anni di blocco totale a causa della peste suina che gli ha impedito di varcare i confini della Sardegna. Da oggi, 22 ottobre, riapre l'ufficio postale di Cortoghiana. Il Tarra ha colto il ricorso del comune, ritenendo illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento con il quale la società poste italiane ha disposto la chiusura permanente dell'ufficio postale. Come si legge nella sentenza, lo stesso Consiglio di Stato ad affermare che a garanzia del servizio postale universale la scelta della soppressione di un ufficio deve essere il frutto di un equilibrato bilanciamento tra il dato economico e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni più disagiate, individuando valide soluzioni alternative a tutela della coesione sociale. Il risultato arriva anche dopo tante proteste messe in atto dai cittadini di Cortoghiana. La Trident Junk 2 2015, la più importante esercitazione nato degli ultimi 15 anni, arriva al culmine e conclude la stagione dell'esercitazione degli addestramenti, programmata dall'Aleanza per tutto il 2015. L'esercitazione coinvolge 33 stati ed è ospitata nei poligoni, nelle basi navali e negli aeroporti militari di Portogallo, Spagna e Italia. La fase operativa fuoco è iniziata ieri e proseguirà sino al 6 novembre. Tra i centri principali in Italia c'è anche il poligono di Capoteulada e l'aeroporto militare di Decimo Mannu. Nell'ambito di questa ampia mobilitazione, la rete NoBasi Nequine Altrove per il 3 novembre ha organizzato una manifestazione presso il poligono di Capoteulada. Giovedì 29 ottobre ad Iglesias si svolgerà il secondo appuntamento della prima edizione del Festival Internazionale Arpe del Mondo. L'appuntamento è alle 20 al Centro Culturale di Via Cataneo. Lucas Petroni suonerà l'arpa paraguaiana e Cristian Rodriguez, anche lui ha l'arpa paraguaiana. L'ingresso per lo spettacolo è di 10 euro e per gli studenti di 5 euro. Questa era l'ultima notizia, adesso vi lascio al meteo e poi al nostro telegiornale in lingua sarda Noas in corso. Vi ringrazio per la vostra cortese, attenzione. Previsioni per domani, venerdì 23 ottobre. Cielo sereno. Vento da nord e con intensità di 20 km orari. Raffiche fino a 26 km orari. Temperature minime comprese tra 9 e 16 gradi e massime comprese tra 19 e 22 gradi.